Cari bambini, in questi giorni di lontananza vogliamo dirvi che ci mancate tantissimo, ci mancano gli abbracci, gli sguardi e le carezze, le canzoncine cantate tutti insieme, i momenti di gioco, i momenti di lavoro, insomma il nostro viverci quotidianamente, ma vogliamo dirvi che noi siamo sempre qua, vicini vicini al cuore e vi mandiamo tutto il nostro amore, siete pronti? E allora via! Questo è per voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!